cemìa ciao tesoro non ho detto ancora un cazzo ciao è una domani ci deve pensare o ci morissi però è un altro discorso avvii troll quest E sti cazzo si frega un pene lo avvio così perché non è che posso fare una vita decente io devo andare anche a girarmi i pollici con già fatto ma lo devo rifare fa partire ma oggi funziona qualcosa Deve andare tutto storto ragazzi facciamo a solitario quello con le carte che è un gioco serio almeno quello Fai sì grazie c'è su siamo alla fine del video ma siamo partiti meno male meglio tardi che mai ne mancano 10 che sono pochi anzi no Ne neanche 8 ne mancano 8 non so contare non so contare è siri che mi rende stupido Partiamo col primo ne mancano 8 sono pochi ce la posso fare si spera che sia una bella signora almeno perché sennò non ha senso Però c'hai muscolati Quindi o è una bella signora oppure è il sharawi uno dei due senti è l'uomo in pantofole che guarda